Passiamo al secondo intervento che appunto è l'intervento sul tema dell'economia. Vediamo se riusciamo. Il professor Battiston è dell'Università Veneziana di Ca' Foscari, del Dipartimento di Economia ed è docente di Climate Finance e Scienze e Gestione dei Cambiamenti Climatici ed è esperto sulle questioni economiche appunto legate al cambiamento climatico. È collegato dall'Università di Zurigo dove attualmente sta lavorando e se mi sente gli cederei volentieri la parola. Perfetto, allora procedo. Prego, prego. Benissimo, allora intanto volevo ringraziare per questo invito. È un grande dubbio essere in questo evento. partecipate alla possibilità di commentare sul documento di acquisizione ed ordine del luto. Il tempo è breve quindi cercherò di dare, semplicerò con alcuni commenti sul documento e poi il mio obiettivo è qualificare alcuni spunti di riflessione sulla dimensione economica e finanziaria del cambiamento climatico. In particolare farò degli esempi sui canali di trasmissione del visto economico e poi provo fondamentalmente delle domande che sono complementari e vanno nella direzione di quelle che sono state poste nel documento. In particolare in relazione a come possiamo aumentare l'esilienza del sistema socialista. Allora, partiamo con alcuni commenti sul documento di trasmissione. Riprendo qui alcuni dei punti che mi hanno in particolare interessato, colpito il documento stesso e li rilavoro un po'. Il primo, direi, ci confronta con una sfida che è al tempo stesso tipica, economica e anche politica, nel senso che c'è una governance, una commissione di governance che è critica. Il cambiamento climatico è un problema più generale e cioè un problema di sostenibilità sia ambientale che sociale, per lo stesso. E' stato menzionato nel documento il documento della pandemia ed è interessante perché ci sono semiglianze e differenze nel momento climatico, in particolare i preconcetti su cosa e poi che possano fare se la passione del rischio da parte del pubblico che il mio obiettivo e con l'esperienza del covid ha messo completamente in discussione. Non c'è veramente molto più da impazzire dagli ultimi mesi. Un altro aspetto che mi ha visto molto importante nel documento è l'attenzione all'importanza dell'interdisciplinarità. E' cruciale che il cambiamento climatico e le decisioni o anche l'elaborazione dell'informazione che vada all'interno delle decisioni sia elaborata in collaborazione con varie discipline. L'ingegneria forse è un contributo molto importante, altre decisioni e chiave sono l'ecologia, l'economia, la fisica tra i più importanti. Ripeto, la dimissione governance è stata menzionata nel documento che ci sono vari portatori di interessi, i cittadini in particolare con le loro domande sulla qualità di salute, le autorità pubbliche. E qui è importante capire che ci sono proprietà pubbliche con diversi orizzonti temporali, quindi la capacità di elaborare l'informazione che l'unità scientifica fornisce è molto diversa. In alcuni casi è la capacità della politica di agire molto limitata, questa è una cosa che è ottenuta conto. Poi ci sono le imprese e alcuni temi, quello della crescita, vengono toccati nel documento. Da qui sollevo le domande, le risposte sono complesse, morticolante, però c'è veramente un compromesso tra salute e crescita? Quando parliamo di crescita economica di cosa parliamo? Perché non tutta la crescita economica è necessariamente crescita materiale. Tendiamo a pensare a questo, ma questa è una considerazione molto limitata. Dobbiamo infatti ripensare la catena di valore stessa. C'è un riferimento al disaccoppiamento tra crescita ed emissioni nell'Unione Europea negli ultimi trent'anni, disaccoppiamento che è parzialmente solo apparente perché parte delle emissioni sono state esportate. Tuttavia è chiaro che è possibile sviluppare il valore dell'economia su attività che non sono necessariamente materiali. Questo è un punto cruciale della dimensione economica. Infine, nel documento si dice, si cita come la politica debba avere il compito di prendere le decisioni giuste. E qui ricordo che è importante porre l'attenzione sui diversi orizzonti temporali, perché i diversi attori politici hanno diversi orizzonti. In alcuni casi non sono nella posizione di prendere decisioni che sono allineate con gli obiettivi climatici che hanno un orizzonte di almeno 10 anni. Quell'ingegneria può sicuramente... Ma volevo fare un commento a questa frase, dove nel documento si dice che l'ingegneria può aiutare a scegliere tra le tante possibili azioni. Ecco, io lavoro nel campo della finanza sostenibile, e in particolare mi interfaccio con tutti i modelli ingegneristici dell'economia, modelli climatici dell'economia, che sono sviluppati in particolare da anche la comunità degli ingegneri energetici. e la comunità con la quale lavoro riconosce l'importanza della cosa seguente. È impossibile prevedere quale scenario si realizzerà esattamente, in termini di transizione energetica in particolare, così come delle politiche climatiche, e quindi questo implica che dobbiamo prepararci ad essere resilienti a vari scenari, più di uno scenario. Questo è importante perché cambia la nostra percezione, non siamo in un problema di controllo ottimale, perché molte delle variabili non le controlliamo. Siamo di fronte ad un sistema complesso e quello che possiamo fare è aumentare la resilienza del nostro sistema economico. In particolare, ed è l'ultimo punto che volevo mettere in luce qui, in relazione al punto del documento sulla definizione delle azioni operative, certo, è tempo ed è anche quasi troppo tardi per passare a definire delle azioni operative, ma nel fare questo è cruciale che teniamo conto delle retroazioni feedback loop che sono indotte dagli interventi tecnologici. Nel momento in cui sviluppiamo o introduciamo una nuova tecnologia, il collega prima menzionava, per esempio, nella transizione ai rinnovabili, ci sono anche degli altri aspetti chiaramente legati all'uso dei minerali che sono necessari per la costruzione del fotovoltaico, così come lo smaltimento. Quindi è importante tenere conto come gli ecosistemi e il loro collasso in particolare ha poi ripercussioni economiche in se stesso, non è soltanto una questione di salvaguardia della natura. Con questo passo a quest'ultimo punto, direi che il documento è molto interessante e invito tutti quanti a riflettere sui contenuti che vengono sollevati. Vorrei concludere ricordando appunto gli importanti di queste dimensioni. La governance, ci sono interessi privati che sono non necessariamente allineati con quelli pubblici o non necessariamente allineati con quelli di lungo termine. Questa è una cosa che va tenuta in conto anche nell'elaborazione delle tecnologie o nell'elaborazione dell'informazione legata alle tecnologie. Non possiamo semplicemente, come comunità scientifica, siamo i tecnici e semplicemente trasferire l'informazione senza pensare anche alla complessità della governance che ci va dietro. Detto questo, volevo ora darvi qualche elemento di riflessione sulla dimensione economica e il cambiamento climatico. Alla base di tutto c'è, come anche il collega che mi ha preceduto spiegava, abbiamo un sistema produttivo che è fondamentalmente basato sulle emissioni di anidride carbonica attraverso i vari settori, agricoltura, energia, manifattura, trasporti ed edilizia. Abbiamo un sistema produttivo che è sostanzialmente lineare, cioè la produzione funziona a partire da delle risorse, nella produzione vengono prodotte anche delle emissioni di anidride carbonica e poi dei rifiuti. Chiaramente, essendo le risorse finite e la capacità del pianeta di processare i rifiuti e di assorbire le CO2 essendo finita, questo è semplicemente una questione aritmetica e tutti dovrebbero capire, questo non è un sistema sostenibile e il suo potenziale collasso non è nell'ordine dei prossimi secoli, ma è nell'ordine di decadi. Una cosa che vorrei menzionare, quando si dice l'aumento di concentrazione della CO2 causa l'aumento di temperatura globale del pianeta, c'è anche da tenere in conto una grande variabilità locale dell'impatto, cioè 3 gradi, non sono 3 gradi dappertutto, possono significare 4 o 5 gradi in alcuni posti che è molto difficile prevedere, ma 4 o 5 gradi più tutta una serie di eventi estremi che fondamentalmente poi rendono la vita o il tessuto sociale impossibile. Quindi questa è la rappresentazione di un sistema lineare, della risorsa, produzione e rifiuti, che ha un certo livello di pressione sugli ecosistemi, quando passiamo ad una produzione che è almeno parzialmente circolare e siccome il collega parlava delle agende della Commissione europea, l'economia circolare è una delle agende insieme al cambiamento climatico, alla mitigazione del cambiamento climatico. L'economia circolare può diminuire questo effetto retroattivo della pressione degli ecosistemi dannoso sulla salute e anche sulla diminuzione delle risorse essenziali. In che modo il cambiamento climatico si materializza poi in rischio economico e finanziario? Ci sono fondamentalmente due canali, quello fisico e quello di transizione. Devo essere molto breve e quindi illustro alcuni esempi di canali. Il rischio fisico significa l'aumentata frequenza o intensità di eventi estremi legati al cambiamento climatico, per esempio eventi atmosferici, ma non solo, che hanno un impatto negativo sull'agricoltura e quindi poi potenzialmente sulla sicurezza alimentare, la quale a sua volta ha un impatto negativo sul rischio paese finanziario, e quindi poi sulle bilancie dello Stato. C'è anche in alcuni casi un rischio fisico su impianti di imprese, in particolare nella manifattura. Vedremo un esempio successivamente, che causano a loro volta un deterioramento potenziale di prestiti bancari e quindi una potenziale sofferenza di banche e assicurazioni. C'è un'altra dimensione che è quella del rischio economico di transizione. Questo concetto si riferisce al fatto che la transizione di un'economia a basso tenore di carbonio potrebbe avvenire in maniera disordinata e improvvisa. Questo significa un aggiustamento imprevedibile e repentino dei valori delle attività economiche o dei prezzi delle obbligazioni associate alle varie attività economiche, che poi alla fine sono in pancia alle istituzioni finanziarie e quindi hanno un impatto sui risparmi dei cittadini. Quindi vediamo un attimo alcuni esempi di questo canale di trasmissione. Imprese che operano nel settore energetico, per esempio, o nei trasporti, che si dovessero trovare a fronteggiare delle politiche o un prezzo del carbonio o delle politiche, quindi delle policy che non avevano previsto, che avevano scommesso, non venissero introdotte, si trovano ad avere il valore dei propri titoli finanziari toccato, affetto negativamente. Ma pensiamo, per esempio, ai titoli obbligazionari di imprese nel settore energetico o nel settore dei trasporti che non si siano preparati alla transizione. In Italia abbiamo alcuni campioni nel settore automotive e nel settore energia. Se queste imprese non si preparano in maniera adeguata alla transizione, i valori dei titoli potrebbero essere soggetti a un rischio sostanziale, siccome poi questi titoli si trovano e rappresentano una parte importante del portafoglio di fondi pensioni e del sistema pensionistico pubblico, è chiaro che poi questo rischio e queste perdite percolano nella società e vanno a toccare poi alla fine i cittadini comuni. Alcuni esempi di rischi e di perdite che si sono verificate già nel passato recente. L'impresa PG&E, che è una utility della California, è stata presentata da questo giornale di finanza, il Wall Street Journal, come il primo esempio di bancarotta legata al cambiamento climatico. In realtà, tecnicamente è stato un misto di rischio fisico e rischio di transizione. Non ho il tempo di spiegare che cosa è successo nel dettaglio, ma fondamentalmente in conseguenza agli incendi che si verificavano in prossimità delle linee di trasmissione, l'impresa ha fatto fallimento a caso di una serie di cause legali. Un altro esempio che voglio fare viene da uno studio condotto da Banca d'Italia sulle banche commerciali e sui prestiti che vengono erogati alle imprese in regioni, in province o comuni che sono particolarmente esposti al rischio di alluvioni. In questo studio, che è citato nella caption, si trova, adesso qui viene semplicemente mostrato la proiezione del rischio di alluvioni, ma poi nello studio vengono trovati dei risultati per cui il rischio di alluvioni, che è previsto aumentare a causa del cambiamento climatico negli anni futuri, ha un impatto già sensibile, già oggi, sui prestiti bancari alle imprese. Voglio concludere con un breve serie di slide, andrò veramente veloce, facendo di capire un po' il tipo di lavori che facciamo nella finanza sostenibile, nella finanza climatica. Cioè, consideriamo i diversi scenari di policy, che sono scenari di emissioni, cioè sulla seia verticale, qui sono diversi livelli di emissioni annuali, secondo diversi scenari. In quello blu in particolare, è uno scenario compatibile con un alzamento di 2 gradi centigradi, rispetto alla fase preindustriale. conseguentemente ai vari scenari di emissioni, ci sono diversi scenari compatibili della componente energetica, delle diverse sorgenti di energia, con la quale, per esempio, sia l'elettricità, ma anche l'energia primaria, vengono prodotte. Quindi, per esempio, quello su cui vi voglio far soffermare, è che nel lato destro di questa figura, differenza tra RefPol e RefPol 450, vedete come a destra la componente grigio e grigio marrone sono molto più piccole. Cioè, tutti questi diversi modelli sviluppati dalla comunità che lavora in economia climatica, concordano nel dire che l'energia deve essere prodotta in maniera massivamente più importante da rinnovabili, se vogliamo mantenere gli accordi di Parigi. Questo implica che c'è la seguente catena di trasmissione, dagli scenari delle politiche climatiche che riguardano le emissioni, questo si traduce in tutta una serie di scenari sulla composizione dell'economia, in particolare l'aspetto proprio ingegneristico, tecnologico, di come l'energia viene prodotta dalle diverse sorgenti, il solare, l'eolico, l'idroelettrico, il nucleare e invece quelle dai combustibili fossili. Questi diversi scenari implicano diversi tipi di transizione, alcune delle quali disordinate, dai quali poi noi ricaviamo una stima dei rischi finanziari, perché chiaramente se un settore che produce per esempio elettricità a partire da una particolare sorgente come il carbone, l'elettricità con impianti a carbone, se quello entro il 2040 devono sparire, è chiaro che il valore economico di tutti gli operatori in quel settore ne sarà affetto molto negativamente, quindi ricaviamo delle distribuzioni di rischi finanziari che poi andiamo ad applicare ai portafogli. Ci sono varie tecnologie, vari metodi, ma voglio solo concludere con questa, quindi alla fine poi facciamo quello che è chiamato uno stress test climatico delle banche ma di qualunque portafoglio finanziario. In particolare questo è importante perché poi alla fine si tratta di andare a capire come rendere più resilienti i portafogli che poi hanno a che fare con i risparmi anche dei cittadini e delle istituzioni finanziarie pubbliche. Quindi concludo, la dimensione economica e finanziaria ha un ruolo chiave per affrontare il cambiamento climatico, è fondamentale considerare il cambiamento climatico nel contesto più globale, nel contesto delle direzioni per migliorare la resilienza del sistema socio-economico. Il cambiamento climatico è la dimensione, se vogliamo, emergente in questo momento ma di un problema più generale. Questo richiede un'aumentata interdisciplinarità nelle collaborazioni scientifiche. Io stesso vengo da un percorso di formazione molto interdisciplinare, vengo da un dottorato in fisica, poi sono diventato professore in economia e finanza e in particolare la coscienza, il riconoscimento della complessità delle varie dimensioni coinvolte, non ultima e cruciale, la complessità della governance. Spero di non aver sforato troppo nel tempo e resto a disposizione per i pari domani. Grazie. Grazie al professor Battiston che ci ha illustrato i complessi collegamenti che ci sono tra la situazione economica e il fenomeno di cambiamento climatico.